Si apre in Casentino la stagione teatrale e a fare gli onori di casa è il Teatro Antè di Prato Vecchio, sabato 17 novembre. E domani c'è Maria Amelia Monti. Vi è mai successo di avere qualcosa che non volete buttare via? Capita a volte, no? C'è qualcosa ma non lo vuoi buttare via? La camicia vecchia? La bicicletta vecchia? E questa è una commedia su una persona che non vuole buttare via nulla delle vecchie cose perché ci si è affezionata. C'è molto da ridere. Tra l'altro non c'è solo Maria Amelia Monti ma c'è anche Imparato, c'è la Carlina Torta e le musiche sono di Cremonini. Quindi teenagers, preparatevi e venite a vedere Maria Amelia Monti. Inizia questa stagione teatrale il 17 di novembre. Ci sono sconti? Ci sono sconti sì, ci sono sconti. Ci sono sconti per i ragazzi, per i giovani che possono vedere questo spettacolo con un sistema di abbonamenti meraviglioso studiato per loro, per gli under 30 perché oggi un tempo giovane, a 18 anni, eri vecchio, oggi il giovane almeno 30enne possono vedersi questo spettacolo e altri tre spettacoli al prezzo di due spettacoli. E ovviamente gli abbonati della scuola di teatro degli antei entrano ridotti.